Scirocco Film Academy è una scuola di cinema nata sulla Riviera dei Cedri con lo scopo di formare maestranze che possano supportare le produzioni che vorranno girare sul territorio calabrese. La Film Commission Calabrese sta facendo un ottimo lavoro da anni per portare le produzioni a girare sul territorio e queste produzioni hanno bisogno di maestranze valide. Per questo è l'obiettivo della scuola. Infatti ci sono corsi di produzione, fotografia, recitazione e addirittura la masterclass di cinema, tutte volte a far riscoprire allo studente il suo ruolo specifico.